RUN BOY RUN RUN BOY RUN RUN BOY RUN The sun will be guiding you RUN BOY RUN They're dying to stop you RUN BOY RUN These strays is a prophecy RUN BOY RUN Break out from society RUN BOY RUN и drukи They're fighting RUN BOY RUN РUN BOY RUN Giappone è lungo, passo a zero. Ma con questa capacità lo scambio è niente. Numero? Perderà dopo il tiro. E lui si è accettato, lui! Stata! Stata cadere! E lui! E lui si è accettato, l'amore! Tu hai chanato, secco! E lui si è accettato, secco! E lui si è accettato, sccolla è lungo. E lui si è accettato, eccoci! E lui si è accettato, eccoci! E lui? Certo! E' proprio lui, non si è mangiato per Laini, due a due, cambia tutto. La squadra, due a zero, potrebbe veramente essere una mazzata grossa. Qui si dispera l'autore Nishino, ma azione ancora una volta dopo uno, al recupero palla. L'apertura, Nellie, c'è Luccafi in mezzo, lascia passare, esegue di Chedri, incredibile, Chedri! Alla, 94, fanno il partenso in mezzo, 3 a 2. Che dobbiamo dire di questa partita? Ci siamo divertiti perché questo non sia il buon finale di due squadre veramente che hanno onorato. Il peggio da grande squadre ha recuperato il 2 a 2. La ripartenza, caccia d'angola, la sua giocata, la ripartenza, bravo. Il peggio da grande squadre ha recuperato il 3 a 2. Il peggio da grande squadre ha recuperato il 3 a 3. Il tempo siding, è iniziato a low line, Robin! That's how dangerous the touch are! Robin gets his third goal at the tournament and after a slow start they find themselves in... Cahill, looking to respond! Oh, what a goal! And that! You can't ask for a better response than to... Outputting Vlade, pulling it back, Grecianu is arriving! Navarly off target! When he blinks back to Snyder, tries to shoot towards the near post, it's a good save by Matty Ryan. Had to be alert, that was a thunderbolt. Plays it against his hand, penalty kick! Steps up. Fires Australia in front against the Dutch! Who saw this coming? Depay, trying to send it through to Van Persie, who's onside and on target! Another quick response! And it's picked up by Orr. And coming at the far close was Tim Cahill. Matthew Leckie was there too, and it was Leckie actually who chested it. He's been to it, Depay. Oh, he's found the place under there! And Ryan's got an error! The shot is the champ, and there's Depay, it's got the Dutch back in front! And Ryan's got an error! Turnup time! Right performance! He's got an error! Oh, it's an awful one of the sides of Backington! Non c'è quanto si sapeva di questo. Suarez può essere in qui! Oh, è stato un pollo! Suarez! Sì, è stato un pollo! Garnettino è ancora un pollo! Compete per il gioco! Siamo un gioco! Oh, è un gioco! Siamo un gioco! Siamo un gioco di Montari. 15 secondi dopo il break... Montari shoots! Oh, Montari scores! What a way to finish il primo gioco! Garnettino! E' un gioco! Diogo Forland! Diogo Forland! Diogo Forland! Diogo Forland! Equalizzando! No stunno! Un gioco! Un gioco فيك! Un gioco al gioco! Non gioco per il gioco! Il gioco in 1-1! Tu ti caos il gioco per il gioco. C'è il gioco in 2-1! 20 minuti per il gioco! Lodera! Suarez! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti